Napoli è la patria, ha dato i Natali ad un programma che va in onda da 30 anni, che è Un posto al sole. Non sottovalutiamo Un posto al sole. Un posto al sole è stata la prima fiction su un format australiano fatta in Italia e che sta ancora andando ed ha un pubblico talmente fedele che è cresciuto ed è andato da padre in figlio, da figlio in figlio. Io conosco degli amici e degli insospettabili intellettuali che seguono Un posto al sole, da 30 anni a questa parte. Ma il patrimonio di San Gregorio Armeno, sta stradina piccolissima, dove ci sono tutti questi pupazzetti, tutti questi che raccontano non soltanto una tradizione legata al Natale di Gesù, ma raccontano regolarmente, tutti i giorni, tutti gli accadimenti, perché nel presepe i pupazzetti vengono aggiornati continuamente. Ma questa è una cosa che esiste soltanto qui, esiste soltanto a Napoli. Grazie a tutti.